quando l'ho sentita varie volte dire la santo magari tuttora spesso in molte interviste o comunque anche sui social ho letto che jessica nel corso del diciamo di questa esperienza è diventata più bella perché ha perso anche un po di peso a me questa cosa mi sta lasciatemi dire sulle palle perché jessica secondo me è entrata all'interno della casa che era già bella poi anche la sua luce negli occhi è diversa ma non sicuramente questo è legato alla sua perdita di peso perché con le sue rotondità era già bella quindi volevo dire esatto brava perché di certo non è il peso che ti ha fatto sentire più bella o non lei ha avuto semplicemente questo cambiamento del il suo animo è cambiato ed è questa l'importanza si è proprio una cosa più interna personale anche di mentalità no l'hai detto l'hai detto ci piace tutto anzi noi siamo state le prime sostenitrici del body kardashian dove tutte prima schifavano invece adesso guarda dove stanno quindi un'ultima cosa posso dire un'ultima cosa